Ambiente e salute, quanto si può andare oltre le parole? Lo si sta verificando qui a Mesagne in provincia di Brindisi grazie a un progetto finanziato dalla regione Puglia che vede l'ARPA e le altre strutture legate alla gestione sanitaria e dei dati ambientali impegnate per tentare di fare il punto sulla situazione. Si partirà dalla situazione che riguarda il territorio di Mesagne che si trova come ben sappiamo tra Brindisi e Taranto per stabilire cosa si dovrà fare per assicurare un ambiente salubre a tutti i cittadini. Grazie alla regione Puglia che in una legge di bilancio ha dedicato risorse importanti stiamo per attuare un monitoraggio ambientale, un monitoraggio che riguarderà l'aria, l'acqua e il suolo. E in particolar modo questo finanziamento è stato destinato alla nostra città perché è geograficamente collocata tra Taranto e Brindisi che sapete essere realtà dove la combustione del carbone produce inquinamento importante. Quindi si è istituita una cabina di regia all'interno della quale oltre al comune la regione Puglia, l'ARPA e l'ASL di Brindisi metteranno a sistema i dati già presenti aggiungendone altri per avere poi uno studio concreto, reale, unico nel suo genere, originale per la prima volta diciamo così puntuale per comprendere effettivamente cosa sta avvenendo nella nostra area. Un segmento di questo percorso prevederà anche uno studio dell'inquinamento elettromagnetico, altro tema a noi caro perché i dati non sono così chiari. Quindi un investimento importante sul tema dell'ambiente che noi riusciamo a sostenere e a portare avanti grazie all'interazione di tutte queste istituzioni.